Buongiorno a tutti, sono Barbara Gaudenzi, sono professore di Supply Chain Management e Marketing all'Università di Verona, al Dipartimento di Economia Aziendale e sono direttore del Logimaster, il Master in Supply Chain Management che appunto vi presento oggi. Il Logimaster è il master più longevo dell'Università di Verona, è attivo da 17 anni, 17 edizioni, inaugureremo nel 2019 la diciottesima edizione. Prima di essere master è stato un corso di perfezionamento in logistica distributiva, ma poi per esigenze anche delle aziende del territorio abbiamo ritenuto opportuno sviluppare un progetto più ampio. Infatti il Logimaster si specializza in particolare su una formazione in logistica e supply chain management, il che vuol dire una specializzazione professionale che permette agli allievi in un anno di master di ottenere una professionalità in logistica, in gestione delle scorte, in gestione del customer service e della produzione e in gestione appunto della distribuzione dei centri logistici. Il master appunto è un master annuale che quindi dura da gennaio a giugno con 360 ore di formazione in aula il venerdì e il sabato tutto il giorno e un giovedì ogni 40 giorni circa. Più poi il periodo per noi fondamentale di stage in azienda che appunto dura da luglio a dicembre flessibilmente e che permette quindi di conseguire il titolo finale di Logimaster. Le aziende investono molto nel Logimaster in quanto abbiamo una rete di quest'anno più di 15 aziende sponsor che appunto cercano attraverso l'investimento in Logimaster di effettuare un recruiting più veloce, più efficace e più professionale di allievi appunto che siano poi pronti a entrare a lavorare nel modo della logistica e quindi aziende che investono proprio facendo sì che il Logimaster possa avere un costo più contenuto per gli allievi e avendo poi loro come aziende la possibilità appunto di assumere. Il tasso di assunzione per il Logimaster è molto buono intendo cioè il tasso di assunzione degli allievi che escono dal Logimaster. Infatti a distanza di pochi mesi dal conseguimento del titolo gli allievi sono già tutti operativi e tutti impiegati in azienda. Ci tengo a precisare che il nostro Ateneo ha già dei risultati molto buoni in termini di placement. I dati dimostrano appunto di Alma Laurea che gli allievi che si laureano presso il nostro Ateneo hanno un tasso di assunzione molto molto veloce e molto alto. Gli studenti che frequentano un master specialistico in particolare noi vediamo il Logimaster hanno la possibilità di entrare in un mondo lavorativo altamente professionalizzato e vicino ai temi di studio quindi la logistica e il supply chain management con dei livelli retributivi devo dire anche di mediamente guardando i dati italiani decisamente di soddisfazione. Fino ad oggi abbiamo diplomato più di 370 allievi abbiamo premiato ex allievi di successo che hanno conseguito posizioni professionali di assoluto rilievo con un premio che da 14 anni abbiamo istituito che è l'ex alumni award e quindi lavoriamo molto con le imprese e con gli allievi proprio per far sì che la logistica che oggi è un settore trainante dell'economia italiana possa essere appunto una fucina di nuovi talenti.